Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso tra Calenzano e Barberino. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori e rallentamenti in entrambe le direzioni tra San Casciano e l'allacciamento per l'A1 di Firenze in Pruneta. Sulla A12 è chiuso lo svincolo di Rosignano-Marittimo in entrata in direzione Livorno e in uscita in direzione Sud. Ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali a bordo, catene da neve o pneumatici stagionali. La viabilità cittadina a Firenze per riqualificazione stradale è chiusa via di San Bartolo a Cintuia tra via Martini e via Madonna di Pagano. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!